In caso di smarrimento della password legato allo username chiocciolaaruba.it, accedere all'indirizzo gestioneaccessi.aruba.it. Dal menu a tendina è indicato, selezionare la voce login chiocciolaaruba.it. Inserire lo username per cui si desidera recuperare la password. Se non si ricorda, cliccare su Hai dimenticato la login e procedere prima al recupero, seguendo le indicazioni riportate nel tutorial dedicato. Per continuare, digitare il codice monouso che si visualizza nella figura sottostante, poi cliccare su Prosegui. Si accede alla pagina Reimposta password, da cui scegliere l'opzione indicata. Cliccare su Prosegui. Si riceve una e-mail contenente un link che permette di raggiungere la pagina da cui creare una nuova password. La validità del link è di 4 ore. Aprire la mail ricevuta e cliccare su Reimposta password. Nei campi appositi, Scegliere e confermare la nuova password. Dal campo indicato, aggiornare eventualmente il numero di cellulare da utilizzare come riferimento. Cliccare su Conferma. La password è stata modificata con successo.